Con una piccola cerimonia informale è stato aperto quest'oggi il nuovo parcheggio del Don Bosco, attigua quello di via Oberdan. 220 posti auto in più che si vanno ad aggiungere ai 330 disponibili nell'adiacente multipiano. Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Oggi andremo ad ampliare il parcheggio di via Oberdan, il parcheggio coperto, aggiungendo 220 posti. Ora, siccome questo tra le strutture coperte era quella più critica, nel senso che dopo le 9-9.30 ci sono sempre stati dei problemi di saturazione, ecco, questo è un ulteriore tassello per incrementare diciamo quella capacità della città di ospitare in termini di parcheggio chi viene da fuori a lavorare. Non è l'ultimo dei tasselli che vogliamo aggiungere perché poi si aggiungerà quello di via Vallona. Noi ci auguriamo che in questo modo alla fine andremo ad aggiungere centinaia di posti e di parcheggi in città. La capacità, diciamo, dal punto di vista della mobilità di ospitare chi fa gli abbonamenti ma anche chi ha esigenze di tipo estemporaneo, accedere a Pordenone, siano coperte e che quindi quei problemi di picco, di ricerca di parcheggio che in passato ci sono stati scompaiano. Certo, questa non è l'ultima, l'unica azione che facciamo in termini di mobilità. Vi ricordo che noi stiamo preparando questo piano della mobilità con il piano regolatore. sono due aspetti alla fine di come si vive meglio a Pordenone. Quindi i tasselli adesso erano già stati pianificati, verranno portati a termine i due parcheggi. Poi ci ritroveremo e ci daremo appuntamento siccome la mobilità verrà ulteriormente sviluppata.